Comodo! Mi sembrava i sus! Ma che cacchio! Ma no! Mi hanno spostato là! No! 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 Palesemente! No! No! Ok! Cosa c'è? Ok, però premete e guarda è la fine dei tempi! Cos'hai visto? Palesemente tutto! No! No! Ok! Ok! No! E ho visto Cico! Lo sto trovando! No! Lo sto volando via! Sto per sboccare! Sto per sboccare! No! Ma che... Ma è morto? Sei morto? Non ha fatto il verso! Ma come è morto? Io pensavo che era lui che mi stava fissando da mezz'ora! Oh! Sto solo ridendo! Ma non... Perché sono... Paura! Non vi accadevi tutti! Ho avuto paura! L'ho trovato! Ma io lo sapevo che era qui! E lo stavo... Lo stavo t-baggando! Ma no! 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 Ero lì perché lo stavo t-baggando! Ma non... Allora hai visto qualcuno! Come no? Destra-sinistra! Destra-sinistra! Velocemente! Ah! Ok! Che non sono io!